Il semifinale di Coppa Marche di prima categoria, Monsan Pietro Morrico 1, Muccia 3, sono gli ultimi minuti di questa partita. Arriva il triplice fischio, i tifosi del Muccia applaudono naturalmente i propri beniamini, Muccia batte Monsan Pietro Morrico 3 a 1 e va in finale del 20 aprile, si giocherà a Muccia, domani si conoscerà l'avversaria della squadra di Mister Rossi che è scelto in campo negli ultimi minuti e ha preso anche un'ammunizione. Naturalmente c'è anche qualche piccolo diverbio nei minuti finali, qualche parola di troppo, vedete che chiaramente continua un po' anche dopo il capanello di persone che si stanno un po' salutando. Eccoli qua, eccoli che vanno naturalmente ad abbracciare i propri supporter, eccola, naturalmente i tifosi delle Muccia contenti.